Quindi se lo sappiamo domanda dobbiamo... Subito! No, 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 non è così! Se la sai stai zitta! Se la sai stai zitta! Che buon***o! Questo è bellissimo oggi! Questo mi ha chiesto da un sacco! Aperitivo, puntata 1, via! Domanda 1 Come si chiama il vulcano di Napoli? Presidio! No! Rapidità di mano, raga! Come si chiama lo stadio di Napoli? San Paolo! No, deve aspettare qui, eh! Deve che mando Maradona! Aspetta! Aspetta! Piazza! Impensabile che è una signora che non vuole proprio rispondere! Sai come si fa così? Dove giocava lo scorso anno... Eleonora Gordoni! Ezra! Rapoli! Non mi va! Scusa che non mi va riportare! Guarda! Adesso riporto su! Brava! Eccola! Eccola! Domanda numero 4 Dove è nata Sofia Loren? Non ho dato! Non lo so! Agenzina! Inghilterra! New York! Napoli! 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 Milano! Aspetta! Sofia Loren... Un'affice! 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 Napoli! A posto! Basta! E' Ponsuri! Sapevole non lo sapevate! Ti giuro! Sobbiatori! Un'affice! Oh! Oh! Cariata! Come si è classificato il Napoli femminile dello scorso campionato? Impezzabile! Terzi ultimi! Quanti campionati di Serie A giocate il Napoli femminile? In Serie A! Impezzabile! Un'affice! Un'affice! Dai! Posso portare un po' di punti a casa? Domanda numero 7! Chi è il presidente del Napoli femminile? Ma una che la so! Raffaele Carvino! Sederini! Eh non guardava! Io voglio il bar! Chi è il presidente della SSC Napoli? Raffaele Carvino! De Laurentiis! Ma raga! E questa come si chiama? La SSC Napoli! No! Napoli femminile! Pensiamo che sia SSC Napoli! No! Scusi! Raffaele Carvino! Senta venuta a giocare! Attenzione! Questo è un momento meraviglioso! Sava di essere a Napoli! Quali sono i colori del comune di Napoli? Audi! Biancazzurro! No! Blu e bianco! No! Blu! Giallo! 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 No! Giallo! Giallo rosso! Giallo rosso! Brava! Guarda! Brava! A me indietro la parla! Io non ti ho capito! Mamma mia putti! Sto trattando un po' la madre! No! Domanda numero 10! Decisiva! La putti è imprezzata! Il nome della pizza regina! La margherita! Ho vinto! 3, 2, 1, 1! No! Scusa! Io non ho capito la domanda! La pizza margherita si chiama così perché è fatta in onore della regina margherita! Ok! Quindi qual è la pizza regina margherita? Possiamo chiudere la pelle! Già arrivato abbastanza aspettato! Ok! Domande! Domande! Non capisco! No! 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 Non capisco! Non capisco! Non capisco! No!